We are family, I got all my sisters with me, we are family, get up everybody, sing! Ciao a tutti, anche io ho deciso di partecipare all'iniziativa Dopo lavorare non stanca e per il tema comunità ho scelto un racconto di Mika Elende Il ponte, al quale lavoriamo già da molti secoli, non sarà mai ultimato Il suo arco, slanciandosi verso l'alto, scompare lontano, da qualche parte in mezzo alla nebbia che sempre sale dal basso Una costruzione simile non può essere portata a termine se non si costruisce anche dal lato opposto E finora non abbiamo mai avuto prova che anche dall'altra parte si lavori a un tale progetto Molti di noi dubitano addirittura che esista davvero un'altra parte Questa fazione nel corso degli ultimi secoli ha fondato una chiesa propria che si discosta dalla vecchia dottrina ortodossa e i cui membri vengono chiamati col nome di unilaterali All'inizio si è trattato di un nomignolo affibbiato loro dagli ortodossi Poi essi stessi lo hanno adottato ed allora lo portano non senza un certo orgoglio Le loro convinzioni non vietano del resto che essi partecipino col massimo impegno alla costruzione del ponte così come prescrive la nostra etica Perciò oggi non vengono neppure più perseguitati come invece è accaduto a volte in un primo momento ma godono degli stessi diritti degli altri o quasi Vi si può riconoscere da un piccolo taglio verticale che hanno sul lobo dell'orecchio sinistro col quale professano la propria unilateralità Gli altri invece che formano la maggioranza ortodossa si chiamano dimezzati Essi non dubitano dell'esistenza di un'altra parte ma sanno che è irraggiungibile Sebbene il ponte non si sia mai proteso oltre la metà della nostra parte vi regna un traffico molto intenso Senza gli scambi commerciali con l'altra parte oggi non potremmo più esistere perché tutti i medicinali e gran parte dei nostri generi alimentari provengono di là Dal canto nostro noi li riforniamo di ogni sorta di recipienti di terracotta laterizzi, attrezzi metallici e cera fossile Spesso è difficile far comprendere agli stranieri che questi fatti che a loro sembrano un'evidente contraddizione noi li accettiamo senza problemi e conviviamo con essi La nostra religione ci vieta e a questo riguardo non c'è alcuna differenza tra gli unilaterali e i dimezzati di porre in dubbio che esista realmente solo il tratto di ponte da noi costruito Fanatici ed eresiaci che di quando in quando hanno fatto la loro comparsa nel corso della nostra storia sono stati condotti seduti a stante fino al punto in cui termina il ponte e costretti a proseguire Naturalmente sono precipitati nel vuoto Per chi non è nato e cresciuto nel nostro paese può essere difficile capire che il presupposto degli scambi fra noi e l'altra parte consiste nella nostra più assoluta certezza circa la loro impossibilità Se mettessimo seriamente in discussione tale fondamento della nostra dottrina allora, e di questo siamo più che certi tutti i nostri libri sacri lo attestano il tratto di ponte che abbiamo costruito crollerebbe all'istante e noi saremmo perduti I viaggiatori farebbero bene quindi a tenere a freno la lingua e a non sforzarsi troppo ostinatamente di scoprire il mistero della nostra fede Sperimenterebbero sulla loro pelle che il nostro ponte non è ultimato e che fra noi e l'altra sponda si stende ancora l'abisso Durante la celebrazione di un matrimonio e non sono pochi tra una figlia o un figlio del nostro paese e un figlio o una figlia originari dell'altra parte questi ultimi confessano solennemente di non esistere La differenza fra le nostre due confessioni consiste soltanto in questo che la formula presso gli unilaterali suona così Io non provengo da nessun luogo perché il luogo della mia provenienza non esiste Per questo io non sono nessuno e così ti prendo in sposo Mentre presso i dimezzati la formula dice Di là, da dove provengo Non è possibile che io provenga perché questo io non sono qui e così ti prendo in sposo Con questa cerimonia la persona in questione acquista la piena cittadinanza nel nostro paese e da allora viene considerata un individuo reale con tutti i doveri e i diritti di un coniuge Continuate a seguire dopo lavoro stadera Ciao Be a family Get up everybody Sing Be a family 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 Be a family